Noi alziamo le nostre mani verso di Te, Signore, e ti ringraziamo con tutto il cuore per come Tu parlerai le nostre vite, per come ministrerai i nostri cuori. Ti ringraziamo perché Tu sei qui in mezzo a noi, Signore. Tu questa sera salverai, guarirai, libererai, Signore. Tu questa sera ti dimostrerai vivente e potente in mezzo a noi, Signore. Perché Tu sei Dio e non sei un uomo. Tu sei vivente e non sei morto. E noi ti ringraziamo e ti diamo tutta la gloria e tutta la gloria nel nome di Gesù stasera. Alleluia! Alleluia! Ci vediamo. A tutto il nostro cuore, ci vediamo. Il Dio l'amore adesso e non 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 ci vediamo. Sì! Il Dio l'amore. Il Dio l'aere adesso e non ci vediamo. Ora, sentiamo l'attuazione subito in vola, il tuo nome si è glorificato ancora, ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.